Fioriere a protezione delle piazze pedonali e presidi fissi di Polizia Municipale e Forza dell'Ordine all'ingresso di alcune strade del centro di Bari. Sono queste le misure antiterrorismo adottate d'urgenza su decisione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. E' stata definita la cosiddetta mappa del rischio che ha individuato 5 zone che dovranno essere costantemente presidiate. Si tratta di Piazza del Ferrarese, Piazza Mercantile e la Muraglia, tutte all'interno della città vecchia, via Sparano e il Lungomare, quando pedonalizzato. Gli interventi immediati si concentreranno sulle zone del Borgo Antico, non essendo prevista nelle prossime settimane la chiusura al traffico del Lungomare ed essendo via Sparano momentaneamente interessata da cantieri per il restyling della strada. In particolare sarà posizionato un presidio di uomini all'ingresso della Muraglia, mentre alcune fioriere proteggeranno già dal prossimo fine settimana l'accesso a Piazza del Ferrarese.